Quali vaccini sarebbero da raccomandare nei pazienti affetti da malattie reumatologiche e che novità ci sono? Abbiamo approfondito questi temi con il professor Riva che ha tenuto una relazione sull'argomento qui a Roma in occasione dei lavori del 26esimo congresso nazionale del CREI, il Collegio dei Reumatologi Italiani. Allora professor Riva, quali sono i vaccini che dovrebbero fare i pazienti reumatologici? Sicuramente i pazienti reumatologici sono a maggior rischio di tante infezioni e questo dimostrato da tanti studi che dimostrano che ci sono tutta una serie di malattie infettive che possono essere prevenute con i vaccini e che sono più a rischio per i pazienti reumatologici. Abbiamo vaccini di diversi ambiti e settori che possono sicuramente aiutare tutti i pazienti. Voglio premettere che non ci sono assolutamente controindicazioni o problematiche di questi vaccini nei pazienti reumatologici. L'unica attenzione che va fatta è ai vaccini vivi con microrganismi vivi perché questi non possono essere fatti in terapia immunosoppressiva. Quindi abbiamo vaccini in ambito respiratorio come sicuramente fondamentale l'influenza, gli pneumococchi, il vaccino per la SARS-CoV-2 e poi emofilus. Poi abbiamo vaccini di altri ambiti come l'herpes zoster, sicuramente un vaccino che va rivalutato e va preso in considerazione è il vaccino contro il papillomavirus e poi abbiamo vaccini che possono essere contro le meningiti, quindi sia meningococco B che meningococco ACV-Y. Professore, un altro capitolo è quello della medicina dei viaggi. Sappiamo appunto che i pazienti reumatologici sono anche persone che viaggiano non meno degli altri. Quindi quali sarebbero i vaccini che questi pazienti dovrebbero effettuare più frequentemente? Sarebbe raccomandabile fare? I pazienti reumatologici sicuramente anche grazie a queste terapie innovative e biologiche sono sicuramente in condizioni di poter viaggiare, andare all'estero, andare anche nei paesi tropicali e appunto nei paesi tropicali c'è un maggior rischio di alcune infezioni che andrebbero prevenute, sia da un punto di vista vaccinale ma anche con la chemioprofilassi. Io ritengo che i pazienti reumatologici prima della partenza per un viaggio tipo in Sudafrica o nell'area subsahariana oppure in Sud America o in Asia meritino un counseling specifico infettivologico in modo da identificare i farmaci che loro fanno e le indicazioni vaccinali che sono richieste per il loro viaggio che deve essere un programma personalizzato sul paziente, sulla sua età, sulla sua terapia e sul suo piano di viaggio ovviamente. Questo quindi include sicuramente la chemioprofilassi per la malaria se ci sarà la malaria e poi vaccini come il tifo, l'epatite A e altri vaccini a seconda di diverse aree geografiche come ad esempio il vaccino contro la dengue piuttosto che il vaccino contro l'encefalite giapponese però deve essere sicuramente un programma personalizzato per ciascun paziente. Ecco professore volevo concludere con lei con una domanda relativa al timing. Quando i pazienti sono in trattamento con alcuni farmaci si pone il problema se fare il vaccino prima fare il vaccino dopo. Ci sono dei dati relativamente ad alcuni vaccini per cui si può dire meglio sospendere il farmaco per un certo periodo oppure qualcosa relativamente al timing? In un mondo ideale le vaccinazioni nei pazienti che poi assumeranno terapie biologiche immunosoppressive sarebbe di vaccinarli prima dell'inizio di queste terapie. in primis perché la vaccinazione come già detto con i vaccini a microorganismi vivi può essere controindicata con alcune terapie e quindi questo richiede una grossa collaborazione tra i reumatologi e gli infettivologi per identificare le esigenze dei pazienti e vaccinarli al più presto possibile. Detto questo non è che un paziente che ha iniziato già una terapia è esclusa le vaccinazioni, anzi è è importante che faccia queste vaccinazioni perché è più a rischio come abbiamo visto di eventuali complicanze infettive e quindi abbiamo sicuramente diversi timing a seconda dei farmaci che vengono fatti. I timing più complessi sono sicuramente quelli relativi ai farmaci anti-CD20 perché questi riducono notevolmente la risposta vaccinale e quindi qui il timing va proprio identificato col paziente il più lontano possibile dalla somministrazione del farmaco e almeno un mese prima della somministrazione del farmaco successivo. Un altro dato che è immerso importante è relativo al metotrexate che è uno dei farmaci più comuni usati in reumatologia. In questo caso ci sono indicazioni che per alcuni vaccini sia utile sospendere per una o due settimane il farmaco dopo la vaccinazione per consentire una maggior risposta immunitaria contro il vaccino che è stato somministrato. Ecco, nello specifico per l'herpes zoster che indicazioni possiamo dare? Per quanto riguarda l'herpes zoster che è sicuramente la complicazione infettiva più frequente nei pazienti reumatologici sia anche quelli che non assumono terapie ma soprattutto quelli che assumono terapie ad esempio terapie con jack inibitos ma anche con gli altri farmaci biologici. L'indicazione è che è recentemente uscito un vaccino nuovo a subunità che può essere somministrato anche ai pazienti immunodepressi in terapia immunosoppressiva con un'alta efficacia dimostrata appunto nei pazienti reumatologici oltre il 90 per cento non grossi effetti collaterali se non momentanei e quindi questo vaccino è fortemente raccomandato nei pazienti reumatologici.